Con Rolando Ravello, protagonista e regista di Tutti Contro Tutti e Casio Smutniak, la protagonista femminile. Rolando, innanzitutto volevo sapere come è nato questo tuo primo figlio, chiamiamolo così, visto che è già una storia pregressa al teatro. Rolando, nasce da un soggetto che in Massimiliano Bruno abbiamo scritto sette anni fa, che si basa su una storia vera successa a un nostro amico, perché entrò una domenica dopo la comunione della figlia, nella realtà, nel film invece un figlio, è tornato a casa e ha trovato la casa rubata da qualcun altro. Da lì siamo partiti e ci siamo chiesti che cosa sarebbe successo al nostro Agostino se non avesse avuto un posto dove tornare. Il vero Agostino è tornato in un appartamento da cui proveniva e che non era sapere affittato. Il nostro Agostino invece occupa il pianerottolo insieme alla sua famiglia e inizia una guerra con gli occupanti, una guerra tra nuovi poveri che coinvolge tutta la palazzina. Ecco, è un tema di cui eravate già a conoscenza? La domanda anche per Casio. Il tema dell'occupazione in sé, sì, è una cosa che conosci, poi insomma comunque frequentando anche centri sociali magari da ragazzino, eccetera, è un mondo che conosci, quello che non conoscevo, l'ho imparato anche girando un documentario all'interno di una palazzina occupata, è che le persone che in questo momento stanno occupando gli appartamenti non sono quelli che ti puoi aspettare, non ci trovi i tossici, i banca bestia, l'iconografia, no, ci trovi impiegati a tempo indeterminato, baristi, impiegati al ministero, persone normali, tra virgolette se esiste una normalità, che però pur facendo un lavoro assolutamente dimitoso non riescono più ad arrivare a fine mese. Casio invece, tu cosa ha? Sì, però non così a fondo, insomma, il problema delle case occupate, di come avviene, ma soprattutto questo film fa vedere che esistono delle organizzazioni che si occupano, che aiutano le famiglie di occupare a sua volta altre case che si mette in lista d'attesa e, insomma, i nostri personaggi entrano un attimo a fondo di tutti, insomma, tutti i trucchetti sia legali che quelli organizzativi per poter ottenere una casa anche in un modo illegale, perché è l'unico... Eh sì, alla fine sei costretto a vivere illegalmente perché non sei messo nelle condizioni di vivere legalmente, no? È assurdo. Sì. E cerchiamo di riderci su. Sì, infatti ci riuscite benissimo perché comunque... Sì, è un po' l'ironia, noi italiani in questo siamo geniali, devo dire. Sì, sì, no, siete stati bravi ad usare anche delle cose paradossali, però senza usare dei cliché, appunto, quello della zecca piuttosto che altro. Quello che volevo sapere, il tuo personaggio è quello che a un certo punto si fa spingere di più, non dalla vendetta, ma dalla voglia di riuscire proprio a vincere, a avere la meglio su queste persone che occupano casa, mentre il personaggio di Kesha è uno che più si cerca di lasciar perdere, no? Che si arrende all'evidenza dei fatti, dice vabbè, lasciamo perdere, cerchiamoci un'altra casa. Nella vita vera, voi, come pensate che avreste reagito ad una cosa del genere? Io di carattere, guarda, sono buono e mansueto, però di fronte, soprattutto ci sono da me due cose che mi fanno saltare sulla sedia, sono la mancanza di rispetto e non la maleducazione, ma l'arroganza, no? E di fronte ad un problema simile io penso che avrei preso a capocciate la porta fino a che non la sfondavo e non riuscivo a rientrare, cioè io non riesco a convivere con questo sistema di cose, non ce la faccio, non sono sereno. No, anch'io. No, no, non penso che... Però in realtà Agostino ha un momento di crisi, di... Però poi sì, magari cerca di combattere in un modo un po' più furbo, mentre tu avresti spaccato con la testa, probabilmente pure io guerra. Io sì, sarei stato più brutale, probabilmente. Rolando, questo è il tuo debutto alla regia, hai subito pensato a te stesso come protagonista, hai avuto qualche dubbio per un momento che magari fosse troppo impegnativo fare sia il regista che l'attore protagonista? No, quando mi sono offerto la parte mi sono trovato subito d'accordo, pazzo, maniacale, ma sto diventando... Un matto, un psicopatico. No, il problema è l'opposizione. Io vivo un trionfo di egocentrismo totale. C'è un regista che al prossimo se lo produce... Sceneggiatore, certo. Poi fa anche le musiche alla fine. E tutti i personaggi come nel monologo teatrale. Certo. No, il problema era l'opposto. Io ero certo di fare il protagonista, non ero assolutamente certo di farne la regia, non la volevo fare all'inizio. Mi sono lasciato spingere e convincere da Domenico, Procacci, Laura Polucci, Massimiliano, Bruno, eccetera, perché all'inizio non volevo, poi piano piano invece mi sono lasciato convincere perché fondamentalmente ho pensato, questa è stata la molla, che per la prima volta mi sarei trovato in difficoltà con la figura del regista, che pure invece io rispetto assolutamente sul set, solo che in questo caso, di fronte ad un altro punto di vista, su una storia che io sentivo particolarmente mia, avrei avuto difficoltà a trovare una via di mezzo tra quello che volevo io e quello che voleva lui, e quindi la prima ho detto vabbè, allora faccio io, semmai sbaglio io. Senti, il film esce in un periodo particolare anche per, perché tra poco ci saranno le elezioni, il titolo è Tutti contro tutti, allora secondo te, esulando comunque dalla politica, per cosa sono tutti contro tutti e per cosa ci potremmo trovare tutti d'accordo con tutti? Il periodo è assolutamente casuale, perché qua in Italia le elezioni ti fanno ogni tre mesi, quindi se tu fai un film è il problema che caschi, non è voluto, non è voluto neanche che esca il giorno in cui il Papa si dà una macchia, neanche quello è voluto, forse lasciate lui, non so, però potevate pensare a occupare la Santa Sede, non è detto, non lo si fa, no, è Tutti contro tutti perché, perché non solo nel film, sono tutti contro tutti, ognuno dei personaggi del film è impegnato in una lotta con qualcun altro, ma perché è un po' quello che si vive in questo momento, non volevano, è una strana angoscia sottile che ci portiamo tutti addosso, nessuno è sereno fin in fondo, è sempre la sensazione che qualcuno ti possa rubare il lavoro, la dignità forse, parlando più per temi generali e quindi viviamo a testa bassa, in totale difesa e non abbiamo più invece questa cosa bella che sarebbe guardarsi negli occhi, confrontarsi e parlare di noi in maniera forse un po' più ampia e incominciando soprattutto a, penso, sarebbe fantastico, a difendere un senso etico che abbiamo un po' perso, un po' tutti, perché ci lamentiamo tanto della politica, ma non è che ogni singolo cittadino di questo paese invece sia un bonzo tibetano, non mi pare. Ma è perché siamo paranoici o perché queste paure sono radicate? Perché siamo, credo, maleducati, nel senso che avremo bisogno anche storicamente forse in questo momento di una guida etica che non abbiamo più, forse tendenzialmente anche per carattere, l'italiano in genere è quello che tende alla scelta facile e non alla vita magari un po' più complicata, un po' più sostanziosa, un po' più dispessore, quindi ci affidiamo ai mezzucci più che cercare di raggiungere degli obiettivi un po', ci accomodiamo facilmente e cerchiamo facilmente una guida d'uscita, ci facciamo raccomandare pure per l'analisi del sangue, quindi siamo i primi che agiscono in questo modo. Tu dall'esterno, vabbè che adesso ormai sei naturalizzata italiana praticamente, però come la vedi questa situazione? Beh, vivo qua, ormai la situazione mi è ben presente, il problema è che da quando sono arrivata e che circa 12 anni fa vedo la situazione sempre peggiorare e io sono figlia di un momento storico dove da quando sono nata sento che è sempre peggio, cioè non mi ricordo una volta nella mia vita che ho sentito una cosa un po' più positiva del giorno prima, non qua, non da quando sono arrivata qua, in Polonia questa cosa c'è stata, ma io penso anche che l'Italia non sta abbastanza male, penso che deve arrivare la botta più grande e dalla botta più grande ci sarà la rinascita, ma questa botta deve arrivare a tutti, non solo alle classi sociali singolari, a tutti, sta arrivando e si vede, ma penso anche che gli italiani è un popolo di scelte facili, insomma anche un popolo giovane. Scelte e soluzioni facili? Scelte e soluzioni facili, anche scelte, perché spesso quello che accade, insomma vedo che si segue una strada dove è quella più facile, appunto anche quella, insomma raccomandazioni che ormai è una cosa così normale che non riesci a fare neanche niente se tu non hai raccomandazioni da nessuna parte, quindi è una roba radicata proprio ormai nel, non nel sistema, nelle persone. Sì è questa abitudine a vivere di mezzi, che invece no, cioè noi abbiamo tutto il sacrosanto diritto di condurre una vita dignitosa con una buona scuola, una buona istruzione, un lavoro dignitoso, abbiamo diritto forse ad avere una casa se paghiamo le tasse e guadagniamo quello che guadagniamo, quindi sarebbe fantastico se ci ricominciassimo un po' a guardare negli occhi.